E' tutto pronto per dare vita alla gara di campionato, ricordiamo la numero 6 del campionato, parte il match, dai ragazzi andiamo a vincere. E' intercettato dal numero 4 Arapi che prova a venire fuori, ma Mariano Guadacino riconquista palla, ancora Guadacino la gestisce sul pressing di Arapi, lo salta Mariano, ancora Guadacino si accentra con il mancino, lo carica e debole, peccato. Palla che viene bloccata da Jacoponi, sale Oliva a destra, porta palla, la scambia con Todisco, prova Todisco la giocata, si sovrappone Oliva, Todisco l'ha visto, ci è fermato, ha servito il pallone proprio per Oliva, traversone in mezzo della pietra di testa, la girata, la parata di Jacoponi, 14 sul cronometro. L'azione, poi arriva Servaggio sul pallone, Mariano la controlla ancora, si gira, prova la conclusione incredibile di Mariano Guadacino che colpisce la traversa, traversa piena, azione spettacolare. Mariano Guadacino attraversa, intanto cartellino giallo per il numero 6, liberati, ma traversa incredibile di Mariano Guadacino, 21 sul cronometro. Si distende di là c'è della pietra, il lancio è proprio per della pietra, chiude Pasta Caldima sul pallone, è arrivato Todisco, 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 la conclusione per la Monica e la palla ancora sul fondo. 24 sul cronometro, Campanile, Marino Grimaldi, il pallone dentro per la Monica, è ancora a basso Di Benedetto, il lancio profondo a cercare Gianni, Mattia Miccio prova a tenere, a contenere l'azione del numero 9 che però si libera e calcia. Ancora Matteo Esposito e ancora la Saracinesca. 43 sul cronometro, ci fermeremo ovviamente alla fine del primo tempo, resteremo sempre in collegamento qui dallo Stadio Menti, ma seguiamo qui Gianni, Campanile cade, attenzione, Gianni! Matteo Esposito a chiudere ancora lui sul numero 9, il fischio dell'arbitro che c'è adesso, parte il match, dai ragazzi, andiamo a vincere. Oliva nasconde il pallone, ma sbaglia qui l'appoggio, regalando la buffa, attenzione buffa, aria di rigore, la conclusione Matteo Esposito. Ci mette una pezza, gancio con il pallone filtrante, Peppe la Monica, la Monica, la Monica, aria di rigore, la Monica! E la barra tocca il palo, della pietra, gol! Juve Stabia in vantaggio, la mette dentro della pietra, la Juve Stabia la sblocca, l'ha messa dentro della pietra. No, non è di pietra, è di della pietra, è così il vantaggio stabiese. A scambiare con il capitano Di Benedetto, Gianni è venuto incontro, si è liberato di Mangini, ancora Gianni prova, il palo colpito da Gianni, non ci è arrivato. Matteo Esposito è finita! La Juve Stabia vince, batte 1-0 il Pisa! Grazie ad una solita esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni, al servizio dell'agente. A Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non vedo le nostre beni. Angellare di Stato. Grazie a tutti.